Un personaggio che mi fa paura Sto tolando di un buco e tutti a piano piano il giro vestito Ma più non posso Muscoli d'acciaio e fisico Dicono che picca veramente, veramente molto, molto forte Io non lo so Mi faccio, mi faccio niente E non vado, vado, vado Un saluto a questo Un saluto a questo Un saluto a questo Yeah, 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 yeah Eres uno che grita Un saluto a questo Un saluto a questo Un saluto a questo Un saluto a questo